Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video per la serie Affitti Brevi in 30 giorni. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e oggi parleremo di un tema molto importante, ovvero gli affitti brevi sono realmente alla portata di tutti. Spesso le persone quando si avvicinano a questo business trovano le scuse più disparate per dire no, questo business non fa per me, sicuramente nella mia città non c'è spazio, ma col mio lavoro come faccio, ho bisogno di requisiti particolari, niente di più sbagliato. Abbiamo visto nelle precedenti puntate di questa fantastica serie che in realtà funziona anche nelle piccole città, quindi non puoi utilizzare questa scusa. Abbiamo visto che lo puoi fare anche senza partita IVA, quindi non puoi utilizzare questa scusa. Abbiamo visto che è altamente automatizzabile, quindi non puoi utilizzare la scusa che non hai molto tempo da dedicarci. Abbiamo anche visto che non c'è bisogno di nessun tipo di licenza o patentino e quindi non puoi neanche utilizzare questa scusa. Allora, per evitare di dover rispondere sempre a nuove obiezioni, sempre più creative, quindi per evitare di dover rispondere a migliaia di scuse possibili e immaginabili, oggi sarò io in prima persona a dirvi quali sono le casistiche tali per cui non potete fare il business degli affitti brevi o non è conveniente fare il business degli affitti brevi. Quindi sì, esistono delle casistiche, delle posizioni, chiamiamole così, tali per cui non è possibile svolgere il business degli affitti brevi, ma sono situazioni veramente particolari ed è molto improbabile che tu rientri in queste categorie. Quindi è quasi sicuro al 99% che tu puoi svolgere questo business degli affitti brevi. Lo devi volere, chiaramente, devi avere un giusto supporto, devi avere una giusta formazione, quella la offriamo noi. Ti ricordo che puoi iniziare con dei contenuti gratuiti che trovi qua nella descrizione del video, ma andiamo a capire quali sono queste casistiche tali per cui non puoi fare affitto breve. Punto numero 1. Vuoi operare in un paese ma vivi dall'altra parte del mondo. Ad esempio, vuoi operare in Italia ma vivi in Giappone. Ora, perché non puoi svolgere il business degli affitti brevi se vivi in Giappone e vuoi operare in Italia? In realtà il business è altamente automatizzabile, Quindi tu puoi essere dall'altra parte del mondo e gli ospiti entrano ed escono dal tuo immobile. Io ne sono la prova vivente, vado spesso in Giappone e comunque i miei immobili continuano a fatturare in tutta Europa e non solo. Quindi indipendentemente da dove io sono, gli immobili vanno avanti. Il problema qual è? Se vivi costantemente in un paese come il Giappone e hai degli immobili in Europa, il fuso orario è veramente folle. Parliamo di un fuso orario di 8 ore in più rispetto all'Italia. Quindi se ad esempio un ospite prenota alle 7 di sera italiane, in Giappone è nottefonde. Quindi tu ci metterai una vita eventualmente ad esempio a rispondere a questa persona o ad approvare la sua prenotazione. Quindi se vivi dall'altra parte del mondo e hai un fuso orario incredibile, non puoi svolgere questo business degli affitti brevi. Quanto meno in Europa. Se vivi in Giappone ovviamente puoi fare il business degli affitti brevi in Giappone o in altri luoghi dell'Asia. Quindi diciamo è un problema a metà. Secondo motivo per il quale eventualmente non puoi fare il business degli affitti brevi. Se sei in stato di arresto, quindi ad esempio in carcere, o se sei agli arresti domiciliari. Ovviamente se sei agli arresti domiciliari devi avere l'autorizzazione da parte del giudice a poter svolgere una serie di attività. Quindi se sei in carcere, probabilmente non stai neanche guardando questo video, ma se sei agli arresti domiciliari non puoi svolgere questo business. Purtroppo ci è capitato ragazzi, ci è stata fatta questa domanda, quindi rispondo. Puoi chiedere l'autorizzazione al giudice? Difficile, poi dipende da che tipo di reato hai commesso, ma difficile che se sei agli arresti domiciliari ti permettano di svolgere un lavoro così a stretto contatto col pubblico come l'affitto breve. Soprattutto un lavoro dove un minimo di rappresentanza ce la devi avere, quindi non so se andrei mai a dormire a casa di un carcerato. Motivazione numero 3 per la quale potresti non svolgere il business degli affitti brevi, ed è molto simile alla numero 2, è se hai ricevuto un divieto di avvicinamento ad una determinata location. Se ad esempio hai ottenuto il daspo da Venezia, è impossibile che tu faccia il business degli affitti brevi. A Venezia, se sei stato espulso dall'Italia, per qualsiasi tipo di motivo, ovviamente non puoi rientrare in Italia e quindi non puoi avviare neanche un'attività, che sia in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. Semplicemente non puoi farlo. Andando avanti, è molto difficile che tu possa fare il business degli affitti brevi se ad esempio fai un lavoro come il camionista, perché sei costantemente in viaggio, sei costantemente alla guida, magari anche 10-12 ore al giorno, ed è molto difficile che tu riesca magari ad avere il tempo di chiamare un proprietario di casa, di organizzare una visita ad un immobile o anche semplicemente rispondere ai messaggi, che poi sono semplicissimi, però di un potenziale ospite che vuole prenotare il tuo immobile. Perché se stai guidando da qui all'est Europa per 12 ore di fila senza fermarti, a parte che probabilmente per le regole dovresti fermarti, ma è difficile che tu riesca ad essere sul pezzo in questo business. Quindi se fai ad esempio il camionista, è molto improbabile secondo me che tu possa fare questo business. Quello che puoi fare è eventualmente con una persona di tua fiducia, tua moglie, marito, figli, eccetera, dare a loro la giusta formazione per avviare questo business. Ma tu in prima persona secondo me difficilmente potrai fare questo lavoro. Ed infine, fatemi sapere poi nei commenti se vi viene in mente qualche altro tipo di situazione tale per cui non potreste svolgere il business degli affitti brevi, è secondo me praticamente impossibile se fai dei lavori che ti portano ad essere sconnesso per molto tempo. Ad esempio l'altro giorno sono andato in miniera, effettivamente il telefono non prendeva e non puoi essere sul pezzo, anche solo per un'eventuale emergenza, il non essere reperibile chiaramente ti vieta secondo me di fare questo lavoro. Se fai l'astronauta o lavori nei sottomarini, insomma se fai dei lavori così particolari, secondo me il business degli affitti brevi non puoi farlo. Ovviamente è tutto automatizzato e ovviamente potresti delegare queste cose, quindi una soluzione c'è sempre, però in prima persona se rientri in una delle categorie che ho citato poco fa, il business degli affitti brevi non puoi farlo. Tutte le altre categorie abbiamo tra i nostri studenti di successo anche medici, ingegneri, super manager, attori, cantanti, sportivi, semplici persone, disoccupati, insegnanti, poliziotti, abbiamo un sacco di poliziotti in B&B Academy, non chiedetemi perché, anche membri dell'esercito. Beh, se rientrate in queste categorie, o comunque ad esclusione non rientrate in tutte le categorie, diciamo, di cui abbiamo parlato in maniera negativa, ovvero che non possono svolgere questo business, beh, se non rientrate in queste categorie, voi questo lavoro potete farlo. In maniera semplice, non avete scuse, l'unica scusa è la forza di volontà, che vi può mancare se non avete la forza di volontà, non andate da nessuna parte, perché il cambiamento ovviamente avviene da parte vostra, non sarò io a dire Oh, vieni qua, prendi il corso, studialo, guadagna e cambia vita, devi volerlo tu, una volta che tu lo vuoi, segui ovviamente la nostra formazione, ripeto, qua in basso trovi già dei contenuti gratuiti fichissimi, quello è il primo passo, cioè se non sei neanche in grado di leggerti un ebook gratuito, gratis, 0 euro, non andrai da nessuna parte nella vita, te lo posso assicurare. Se invece inizi, dici, vabbè dai, ho un contenuto gratuito, inizio a capire come funziona questa cosa qui, magari poi utilizzo il secondo contenuto gratuito, che è una chiamata con il team di Ludovico, fammi capire un po' come funziona questo business e valuto. Questo è il primo step per cambiare vita. Bene, per questo video è tutto, può essere diciamo un po' ironico, ma un fondo di verità effettivamente c'è. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e guardate tutto il resto della serie Affitti Brevi in 30 giorni, perché è veramente molto interessante, molto pratico e soprattutto molto utile. Per questo video è tutto, da Ludovico Cianchetta Vasquez, ci vediamo nel prossimo.